In Friuli Venezia Giulia sono 26.000 le persone positive al coronavirus, 6.800 nella zona coperta da giugi, in totale 8.000 in più rispetto allo scorso anno. Le ospedalizzazioni però a quota 334 sono meno della metà delle 726 che si registravano un anno fa. Nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio 3.321 casi non risultano riconducibili a Focolai. Sono alcuni dei numeri resi noti da Asugi a Catinara durante una conferenza stampa che ha fatto il punto anche sulla campagna vaccinale. Campagna vaccinale che ha fatto registrare un picco di inoculazioni giornaliere a giugno fino a 5.000, una flessione marcata fino ad ottobre 1.500 al giorno ed una ripresa a partire da dicembre fino a 3.850 con una previsione di 5.780 dosi al giorno a partire da lunedì prossimo. Al 4 gennaio 2022 le dosi complessivamente erogate da Asugi ammontavano a 726.838. A Trieste però 40.000 persone nella fascia dai 12 anni in su non si sono vaccinate. Durante l'incontro si è parlato della necessità di un cambio di strategia così riassunto dalla dottoressa Riella Breda. Alleggerire tutta la parte burocratica che sta accompagnando ormai questa pandemia e soprattutto attuare misure molto più snelle per le persone che risultano vaccinate con terza dose o vaccinate da meno di 120 giorni. Tutto questo permetterebbe alla persona immunizzata di trovarsi in una situazione di libertà, quello che è giusto sostanzialmente. Tra le azioni da mettere in campo la definizione dei criteri di estrazione dei dati e la creazione di un algoritmo per la chiusura automatica in collaborazione con Insiel delle quarantene e dell'isolamento degli asintomatici. Dai professionisti di Asugi è stata avanzata inoltre l'opportunità di predisporre risorse per l'assistenza di soggetti positivi, in quanto è prevedibile un graduale aumento delle ospedalizzazioni e di mettere in campo ogni sforzo per vaccinare la fascia di popolazione ancora non immunizzata e per completare con la dose di richiamo l'immunizzazione delle altre fasce d'età.